Ebbene sì, siamo tornati con un vlog in macchina e devo dire che lo sto facendo in macchina perché in questi giorni, in questo periodo, sto cercando di concentrare un po' tutto il mio tempo ed è un video che volevo fare assolutamente ma che non sapevo se fare o non fare e non sapevo come farlo mi spiego meglio perché abbiamo iniziato questo progetto, questo percorso insieme per parlare di EUR 2016 per parlare del percorso della nazionale italiana che ahimè, come sappiamo tutti, come spero che sappiate tutti si è concluso con la sconfitta rigori contro la Germania e devo dire che un paio di paroline dovevo per forza farle su questa nazionale a mente fredda perché l'unico video che ho fatto uscire è quello delle mie reaction delle mie sensazioni subito dopo la partita, cioè nell'immediato futuro post partita e devo dire che qualcosina è cambiato nella mia testa, il titolo del video ovviamente io tengo sempre a sottolineare questa cosa che il titolo si chiama incredibile Zazza e Pelle tradiscono l'Italia ma ovviamente il titolo deve essere accattivante per fare in modo che venga visto e questo titolo tra l'altro non so se è per l'argomento non so per il titolo, non so per la miniatura, è riuscito a farlo andare perché la vita è andato discretamente bene nonostante fosse un vlog e anche qui sono sorpreso, veramente estremamente sorpreso e compiaciuto di questa sorpresa perché ho sempre voluto parlare di calcio, lo sapete, lo sapete benissimo e avevo iniziato a farlo in questo modo, a vlog, col telefono ancora una volta ma col telefono appoggiato come se fosse una telecamera senza mai scrivermi il copione poi ho lasciato lì, sono passato a FIFA e poi la voglia di tornare a parlare di calcio mi ha iniziato a far scrivere i copioni, a far fare video come che compra la tua squadra ieri è uscito il calcio mercato dell'Inter, vi lascio magari nelle schede se ancora non l'avete visto andare a vedere e lì inizio a scrivermi i copioni, lì inizio a costruirmi le frasi per sapere che cosa devo dire, non mi ricordo se in quello del Napoli o quello della Roma addirittura ho messo uno spezzone di un video in cui mi ero impappinato e una specie di dietro le quinte di errori tecnici proprio per farvi vedere comunque la cura che c'è dietro a quei video devo dire anche però che mi portano via tantissimo tempo perché per fare un episodio del calcio mercato mi vanno via almeno 4-5 ore tra stesura, ricerca delle informazioni, stesura del copione editing delle carte su Photoshop per le carte di foot girare il video, montare il video, renderizzare il video, caricare il video capite benissimo che è una sfaticata, un lavorazzo ma che porterò a conclusione perché vi ho promesso di fare tutte e 20 le squadre della serie A 2016-2017 quindi ragazzi il Carpi e l'Elas Verona no, non le porterò, farò le squadre promosse quindi il Pescara, il Cagliari e tra l'altro ieri ho visto un po' che siamo anche a buon punto perché la mia idea adesso era quella di fare la Fiorentina ma ho visto che la Fiorentina e il Sassuolo sono solamente a una distanza della classifica e quindi ho deciso di farle insieme quindi se volete sotto questo video o sotto quello dell'Inter andarmi a scrivere chi sta seguendo il Sassuolo o quale acquisto è già fatto perché farò insieme queste due squadre poi farò il Milan singolarmente perché se lo merita anche per la storia, per il blasone, per il numero di tifosi interessati e poi tutte le altre farò a coppia di due quindi capite bene che nel giro di un mesetto dovremo aver quasi praticamente finito anche il calcio mercato un mesetto abbondante che poi tra l'altro un mesetto abbondante arriviamo praticamente a metà agosto e il calcio mercato è bello che è concluso poi magari vediamo di iniziare una serie su come giocheranno le squadre ma di questo parleremo più avanti dicevo però che ho iniziato a evolvere questa situazione salvo poi dover tornare indietro per colpa perché non è una colpa assolutamente io sono stato molto contento di essere stato scelto per questo progetto di 90 Mini Star Trek in cui richiedevano dei veri e propri vlog mi sono trasformato in una fashion blogger come i Brailless, Bastardi, Maledetti stanno continuando a scrivermi qui sotto nei commenti e come sicuramente The Giant, Seppi, Gaz il Green no perché il Green scriverà una cosa completamente a parte di pazzia totale stanno continuando a ricordarmi e devo dire che all'inizio quando mi chiesero dopo però carica anche i video sul tuo canale ero un po' scettico perché la cosa era nata in maniera diversa ho detto va bene dai proviamo che cosa mi costa ci sta, facciamo una prova e incredibilmente il riscontro è stato estremamente positivo cioè voi mi avete accompagnato per questa cosa mi avete seguito a spada tratta i video sono andati benissimo e sono vlog nel senso sono girati buttati fuori così e caricati quindi non c'ho neanche l'editing dietro non ci perdo tempo ci perdo solo i 10 minuti che ci metto a girare il video fine e poi il caricamento vabbè ma quello bene o male non ci fatico tanto lo fa il computer lo fa la connessione lo fa il telefono insomma io non ci fatico e quindi l'idea che mi nasce è questa qui dato che mi sono piaciuti così tanto questi video, questi vlog come questo o addirittura quello che ho fatto in macchina precedente sulla sicurezza ad Euro 2016 sul pericolo attentati sul pericolo ISIS volevo sapere se poteva interessarvi una specie di vloghettino dopo quasi tutte le partite della serie A perché della prossima stagione ovviamente perché non voglio assolutamente togliere troppo tempo a FIFA perché ultimamente ne sto togliendo ma è fisiologico addirittura ho tolto dei video sono arrivato a tre video la settimana e di quei tre video la settimana la scorsa settimana c'è stata la canzone di Abrilio Screw il video troll di Whatsapp che tantissimi ancora non capiscono quando faccio i video troll è solamente un episodio della carriera e la carriera sta andando lo sapete benissimo è la serie che va di più sul mio canale e tra l'altro preparatevi perché ho già registrato i due episodi successivi ragazzi non vi non posso dirvi cosa è successo ma è successo di tutto di tutto aspettatevi di tutto e quindi devo per forza se voglio parlarvi di calcio portarvi dei contenuti del genere adesso inizio a parlare dell'Italia perché dopo sei minuti non ho detto niente era solamente un'introduzione al tutto quindi fatemi sapere se vi piace questo genere di vlog e se li volete per la serie A del prossimo anno intanto iniziamo a parlare dell'Italia dei Conti perché ho visto tantissime parole sprecate magari io sono contentissimo come ho già detto nell'altro video non si poteva chiedere di più a questi ragazzi cioè nel senso sì magari si poteva chiedere un po' di più sotto i rigori ma i rigori ragazzi è qualcosa di strano di particolare va fuori dal calcio non vincerà più forte e secondo questo dogma avremmo dovuto vincere noi sono d'accordo ma i rigori sono i rigori cioè mi dispiace ma è tutto un altro discorso non è una partita di calcio è una gara di nervi in una gara di concentrazione in tanti hanno criticato Conte per aver messo dentro Zaza e magari non De Rossi o magari non un immobile rigorista ragazzi io ho sempre avuto un pensiero fisso nella mia testa e quando ho iniziato a parlare di calcio se voi andate a vedere il mio primo video primo i miei 23 per il mondiale del 2014 il primo pensiero il primo pensiero foolishian il primo dogma di foolishian chiamiamolo così è uno solo uno soltanto l'allenatore in questo caso Antonio Conte all'epoca Cesare Prannelli oppure qualsiasi altro allenatore mi viene in mente Allegri perché della Juve ho parlato abbastanza in quel periodo dato che c'era la Dio di Conte ha sempre ragione l'allenatore ha sempre ragione nel momento in cui fa le scelte fa la formazione decide un cambio decide chi batte il corner decide chi batte il rigore ha sempre ragione lui ha sempre ragione lui in quel momento lui ha ragione successivamente si può fare un discorso a parte successivamente si può valutare la scelta ma col senno di poi è sempre più facile è più facile per tutti col senno di poi ma perché ha sempre ragione l'allenatore perché vede l'allenatore è presente vede noi vediamo la partita e basta vediamo quei 90 minuti e basta non vediamo null'altro secondo voi Antonio Conte questo Antonio Conte che tra l'altro voglio farvi capire come si è riuscito a conquistare l'Italia intera dopo una partenza magari critica perché i vari Pavoletti Giorginio Buonaventura lasciate a casa io ci avevo fatto il video sopra ma anche lì vi ho detto ragazzi lasciate lavorare Antonio Conte eh ma Conte sta già pensando al Chelsea lasciate lavorare Antonio Conte eh ma ha lasciato a casa Pavoletti che ha fatto 15 gol ha lasciato a casa Buonaventura che ne ha fatti 10 ha lasciato a casa Giorginio che è il mio regista sono d'accordissimo andavano chiamati tutti e tre nelle mie convocazioni c'erano nelle mie convocazioni ma lasciate lavorare Antonio Conte perché perché lui vede perché lui ragiona ma non lui perché tutti gli allenatori soprattutto lui tra l'altro mi verrebbe da dire perché gli allenatori vedono sul campo secondo voi Antonio Conte perché ha messo dentro Zazza non perché gli tirava il culo mettere dentro De Rossi o Immobile non perché De Rossi non sarebbe riuscito a calciare il rigore perché è infortunato perché non sarebbe andato in panchina se non fosse riuscito neanche a fare i cinque passi per il rigore non sarebbe andato in panchina De Rossi sarebbe andato in tribuna quindi De Rossi quindi De Rossi il rigore l'avrebbe potuto tirare benissimo ma perché Zazza perché non Immobile ragazzi il motivo è semplicissimo perché lui vede gli allenamenti perché lui gestisce gli allenamenti perché lui avrà preparato quante sessioni di rigori dalla Spagna alla Germania tantissime e quindi e quindi il giocatore con la maggior percentuale di realizzazione positiva di un calcio di rigore poteva essere qualcuno di diverso da Zazza assolutamente no il caso il dio del calcio il dio in assoluto nostro dio signore padrone ha deciso che Zazza dovesse sbagliare quel rigore e l'ha sbagliato eh ma Zazza ha fatto i passi da gabbiano mi ha fatto ridere anche a me con la gif col gabbiano che pesta i piedi ma voi l'avete visto gli altri rigori che ha tirato Zazza avete visto per poterli giudicare assolutamente no Zazza gli ha sempre tirati così i rigori l'ha detto lui stesso adesso io mi ricordo un rigore con Milan Sassuolo l'ultima giornata di Serie A di due anni fa che Berardi non tirò il rigore e me lo ricordo perché io avevo Berardi da fantacalcio e si segnava nell'ultima giornata del campionato vincevo il fantacalcio e avevo contro Zazza e lo tirò lui e fece gol non mi ricordo se l'ha rincorsa e l'ha presa così ma fece gol quindi un rigore almeno in carriera Zazza l'aveva già battuto e in allenamento i suoi compagni Conte lui stesso hanno tutti dichiarato che li ha sempre battuti così e se lui si sentiva sicuro a batterli così lasciateglielo battere ha sbagliato non è colpa di quei passi perché se tutti gli altri li ha sempre segnati non credo che fosse su 20 rigori che hanno tirato magari in allenamento tutti e 20 oh cazzo è stato culo e questo qui invece è la logica doveva sbagliarlo per i passettini Pelle ha fatto ha fatto così va bene ha fatto così eh ma ha preso per il culo Neuer ha preso per il culo Neuer non è vero ragazzi non ha preso per il culo Neuer già di per sé lo scavino e prendere per il culo il portiere lì è stato semplice un semplice tatticismo un semplice giochino psicologico perché se tu tu calciatore che vai a battere il rigore davanti a Neuer che è il più forte portiere del mondo magari mi potete dire magari Buffon al momento è Neuer mi dispiace nonostante Gigi io lo ami il mio capitano anche nella mia squadra al momento è Neuer perché il futuro è dalla sua perché ha una prospettiva di giocare di allungare ancora di più la sua carriera è dalla sua quindi se volete dirmi che è uno dei più forti portiere della storia Buffon sì sono d'accordo come negarlo ma al momento è Neuer nonostante la paratona di Gigi sull'autogol di Bonucci al momento è Neuer e tu Graziano Pellè che a 30 anni per la prima volta vai a giocarti una competizione così importante con la tua nazionale nella quale non eri mai stato prima di Antonio Conte che anche lì ci ha visto lunghissimo lui ci ha veramente visto lungo e ti presenti davanti a Neuer che è il miglior portiere del mondo e tu Graziano Pellè hai già fatto 3-4 scavini nella tua vita su rigore tra l'altro in nazionale nelle giovanili sai benissimo che un portiere come Neuer va a studiarsi tutti i giocatori che potrebbero tirargli i rigori contro specialmente dell'Italia specialmente perché li battiamo sempre li buttiamo sempre fuori e specialmente degli attaccanti e quindi se tu Graziano Pellè sai che nel cuore tuo hai sempre fatto gli scavini in nazionale sai che Neuer è il più forte sai che Neuer si è documentato gli dici io ti faccio il cucchiaio io ti faccio proprio il cucchiaio perché perché speri che rimanga fermo perché speri che si ricordi il video che gli ha fatto vedere il preparatore atletico dei portieri e che si ricordi che Graziano Pellè fa lo scavino sul rigore e allora cosa fai miri un angolo cerchi di aprire più possibile il piattone e cerchi di infilarla lì dato che se Neuer rimane fermo tu fai gol che poi sbagli il tiro perché prendi male la palla perché prendi un po' di erba nel tiro perché la pressione ragazzi ma state scherzando o dite davvero io non so se voi abbiate mai giocato a calcio ma a me tremano i piedi mi tremano le ginocchia quando vado a battere un rigore negli amatori e gioco negli amatori voi avete mai battuto un rigore ad altre partite importanti cioè lì si giocava Italia-Germania contro l'Italia la Germania campione del mondo squadra più forte nazionale in circolazione e Graziano Pellè addirittura gli viene in mente di provare a destabilizzare deconcentrare Neuer con una cosa che ha una logica ha un senso e la nazione gli deve andare contro perché la pressione gli fa sbagliare il rigore dopo che è stato il nostro capo cannoniero in questo europeo dopo che con la Spagna e con la Germania ha fatto a sportellate nell'ordine con Piqué Sergio Ramos Boateng e Umbels davvero e dopo che ha vinto tutte le palle tutti i contrasti aerei davvero adesso dobbiamo fargli la critica perché ha sbagliato il rigore perché ha fatto così e se dopo aver fatto così faceva gol diventava l'idolo di tutti voi come quando come quando non lo so Pirlo ha fatto il cucchiaio a Hart quattro anni fa o come quando Balotelli ha fatto la doppiata alla Germania dopo che praticamente aveva segnato un altro gol e basta nel torneo e tutti dicevano ma Balotelli non può fare gol diventava il vostro idolo perché aveva fatto così a Neuer e aveva fatto gol il miglior partito del mondo dai ragazzi un po' di un po' meno di ipocresia e un po' più di sostegno della nazionale ha sbagliato Darmian ha sbagliato Bonucci che Bonucci non è facile presentarsi dal dischetto dopo averne già segnato un altro e infatti lì la pressione e lì si vede la bravura di chi è rigorista e di chi no Neuer che è abituato a presentarsi sui rigori ha capito che l'opzione più semplice per Bonucci poteva essere quella di cambiare lato così ha fatto e l'ha parato vogliamo parlare di Buffon un monumento un monumento perché c'è questo luogo comune questa leggenda metropolitana che Buffon non sa parlare i rigori cazzata andatevi a vedere qualche statistica andatevi a vedere qualche video di Buffon Buffon ne ha presi tanti in carriera però Buffon non sa parlare i rigori va bene però Buffon li intuisce sempre però Buffon li sfiora li tocca Hummel si ha fatto così nel senso è andata bene Hector gli è passata sotto perché si è buttato con un pelo di anticipo Gigi capitano uomo simbolo lo amo lo amo io ve lo giuro lo amo e vedere che tornato in Italia hanno iniziato ad abbracciare tutti i tifosi uno ad uno cioè vi fa capire la grandessa di questa persona la grandessa e vedere che anche Conte si è emozionato Conte Antonio Conte che è uno che generale di ferro picchiamo tutti non facciamo scappare nessuno cattiveria correte correte Antonio Conte si è commosso Antonio Conte si è messo a piangere Antonio Conte ha detto tornerò in nazionale Antonio Conte vi ha fatto innamorare Antonio Conte vi stava sulle palle primo dell'europeo perché ha fatto vincere la Juventus e adesso vi stava ancora sulle palle Antonio Conte quando ah si Antonio Conte è sopravvalutato è esaltato perché si perché qui perché là adesso Antonio Conte è riuscito a farvi innamorare adesso Antonio Conte è riuscito a fare breccia nei vostri cuori avete capito perché Antonio Conte vince e avete capito come fa a vincere con quelli di livello tecnico inferiore adesso è più facile vero capire perché adesso che sulla vostra pelle è passato l'effetto Conte è più facile capire come faccia quest'uomo a entrare nel cervello di ogni singolo giocatore e a farlo giocare bene perché davvero abbiamo giocato con la nazionale più vecchia di sempre e quella tecnicamente meno forte di sempre eppure è stata una delle più belle nazionali perché la partita con la Spagna e la partita con il Belgio sono state bellissime la partita con la Svezza è stata sofferta ma vinta all'ultimo minuto la partita con l'Irlanda va bene l'Irlanda turn over l'unica partita che abbiamo perso l'unica partita in cui abbiamo subito gol Germania a parte ma quella è una partita a parte una partita a sé avete capito adesso chi è Antonio Conte pensate adesso al Chelsea che potrà finalmente lavorare con dei giocatori forti perché alla Juventus ha sempre giocato con giocatori mediocre perché i giocatori forti il primo giocatore forte che ha allenato magari è stato Vidal e il secondo Tevez di alto livello al di fuori dei confini nazionali ma adesso che va il Chelsea e potrà disporre di giocatori internazionali forti questo qua che cosa può fare e quindi ragazzi io sono estremamente soddisfatto di questo percorso di questa nazionale e dovreste esserlo tutti e l'ho detto anche nell'altro video sono fiero di essere italiano ma non lo sono per questa partita con la Germania o quella con la Spagna lo sono da sempre perché quest'anno festeggi dieci anni che seguo il calcio 2006-2016 e la prima cosa che ho iniziato a seguire del calcio sono stati i mondiali del 2006 e ho notato anche qualche analogia perché la partita inaugurale che vinci 2-0 Pirloia Quinta all'epoca Giaccherini Pellè quest'anno il gruppo che parte con del casino perché Calciopoli all'epoca Conte ha lasciato a casa questi oggi sono già 20 minuti adesso spengo un allenatore vincente Marcello Lippi Antonio Conte giocatori che vogliono dimostrare che non sono finiti Buffon o comunque all'epoca avevamo un attacco come come Totti Toni con Del Piero che faceva la panchina o con Inzaghi che faceva la panchina quindi ragazzi c'era qualche analogia per far ben sperare e ci ho creduto fino all'ultimo perché sono convinto che se battiamo la Germania l'altra sera andiamo avanti nell'Europa e lo vinciamo perché la Francia ok non è imbattibile e se abbiamo battuto Spagna e Germania la Francia non deve farci paura adesso spengo perché siamo già arrivati tantissimo in là però volevo davvero farvi capire che non possiamo arrabbiarci con i giocatori per aver fallito i rigori ma dobbiamo solamente congratularci perché hanno fatto tantissimo di più di quello che potevamo fare e ricordatevelo e ricordatevelo perché avete esultato anche voi l'avete visto anche voi io volevo solamente dirvi questo e dopo 20 minuti che credo sia record storico del mio canale vi saluto ciao ragazzi dritto per dritto grazie a tutti